Un piano organico da portare avanti con risorse finanziarie già disponibili per 22 milioni di euro, 8 milioni e mezzo già presenti in bilancio e il resto da finanziare attraverso il bilancio 2014 con il piano triennale delle opere pubbliche. Accantonato per il momento la pedonalizzazione del parco, il Comune ha deciso di realizzare degli interventi per migliorare la zona della favorita, che solo in una fase successiva potrebbe essere interessata dal provvedimento di chiusura al traffico. Tra le iniziative che verranno messe in campo vi sono quelle relative al miglioramento della segnaletica sia per l'accesso ai viali sia per l'accesso ai vari edifici, tra cui casa natura. Prevista anche la riorganizzazione dell'illuminazione nella zona del giro di carrozze della palazzina cinese e il recupero delle fontane esistenti, l'eliminazione dell'asfalto nel viale d'accesso alla palazzina cinese e l'utilizzazione di nuove aree per attività sportive e ricreative. Infine verranno affidati appalti pubblici per il recupero dei caseggiati in Rocca e dei prospetti di casa natura con la riattivazione del vivaio.